ciao ragazzi cominciamo a vedere stasera cosa sono gli angoli sia consecutivi che adiacenti sappiamo che un angolo è una parte di piano delimitata da due segmenti che hanno un estremo in comune quindi prendiamo questi due segmenti il nero e l'arancio e gli facciamo combaciare un segmento dopodiché uno dei due lo giriamo come ci va l'angolo è precisamente la parte di piano che è compresa tra questi due segmenti che hanno come vertice l'estremo in comune l'estremo sovrapposto che chiameremo vertice l'angolo è questo quindi definito che l'angolo è la parte di piano tra due segmenti andiamo a vedere come possono essere tra loro questi angoli due angoli si definiscono consecutivi quando hanno tutti un vertice in comune disegniamo più di un angolo vediamo un po come fare con le linee che abbiamo preparato in precedenza tu vai giù quindi prendiamo il caso di questi due angoli che abbiamo formato andiamo a mettere le lettere il punto iniziale da cui partono gli angoli lo chiamiamo vertice dopodiché abbiamo questo segmento sarà VA questo sarà VB questo sarà BC i nostri due angoli sono 1 e 2 questi due angoli quindi sono consecutivi perché hanno il vertice V in comune di conseguenza sapremo che il nostro angolo AVB e indichiamo con un accento circonflesso sulla V per indicare che il nostro angolo è esattamente quello che ha come vertice V sarà consecutivo dell'angolo BVC quindi cosa abbiamo visto che due angoli si dicono consecutivi quando hanno un vertice in comune e inoltre hanno anche un segmento in comune quindi non sono due angoli staccati ad esempio questo e questo sono consecutivi quando anche il segmento VB è in comune ad entrambi come si scrive un angolo ecco la quella dicitura dell'angolo quindi metteremo prima il nome di un estremo poi il nome del vertice e poi il nome del secondo estremo sul vertice andiamo a mettere questo piccolo simboletto che è un accento circonflesso e che comunque in geometria è il simbolo dell'angolo la stessa cosa abbiamo fatto per l'altro angolo questi angoli quindi sono consecutivi andiamo adesso a vedere quando si parla di angoli adiacenti due angoli si dicono adiacenti quando essi sono consecutivi ma la loro somma e questo è fondamentale perché per gli angoli consecutivi non vale solo questa regola quando oltre ad essere consecutivi la loro somma mi dà 180 gradi vediamo di muoverci con i segmentini che abbiamo qui qui abbiamo tre angoli consecutivi come vedete qui abbiamo il vertice V che è in comune a tutti e tre i nostri angoli andiamo a vedere quali sono gli angoli 1 2 e 3 questi tre angoli sono consecutivi perché AVB quindi il mio primo angolo AVB ha in comune con il mio secondo angolo BVC ha in comune sia il vertice sia un lato in comune quindi BVC inoltre il mio angolo BVC che è l'angolo che abbiamo chiamato con il numeretto 2 è consecutivo all'angolo CVD perché perché con l'angolo CVD ha in comune un vertice è in comune il segmento CV veniamo inoltre che la somma di questi tre angoli mi dà un angolo di 180 gradi ovvero l'angolo 1 più il 2 più il 3 danno vita a un angolo piatto in questo caso quindi parliamo di angoli adiacenti gli angoli consecutivi quindi sono semplicemente quegli angoli che tra di loro hanno in comune un vertice e un lato mentre gli angoli adiacenti sono sia consecutivi ma la loro caratteristica fondamentale è avere come somma 180 gradi ecco noi qui ne abbiamo fatto un altro esempio trasportando gli altri pezzettini che avevamo a disposizione abbiamo qui un vertice che possiamo chiamare di nuovo V e qui abbiamo EFG andiamo a vedere che il mio angolo 1 più l'angolo 2 formano un angolo GVE che è un angolo piatto quindi proviamo a definire gli angoli adiacenti due o più angoli si dicono adiacenti se oltre ad essere consecutivi essi hanno una somma di 180 gradi altro modo per definire gli angoli adiacenti è dire che i segmenti esterni di ogni angolo giacciono su un'unica retta tant'è che come possiamo osservare sia nel primo che nel secondo disegno DA è dato dalla somma di due segmenti ed esso è un unico segmento che appartiene alla stessa retta se provassimo a disegnare la retta DA vediamo che è un'unica lunga linea cosa che non avviene per i semplici angoli consecutivi invece stessa cosa nel secondo esempio GE è un segmento somma dato da GV più GE e quindi il mio segmento GE appartiene ad una stessa retta se non dovesse essere chiaro ne facciamo un'altra spiegazione lasciate i vostri commenti commentate anche sulla pagina facebook se avete bisogno di altre spiegazioni le faremo su vostra richiesta spero sia stato chiaro ci vediamo ragazzi alla prossima